Finalmente si torna in Lessinia, si torna in montagna, siamo tutti contenti e la natura qui è viva, è in fiore, è uno spettacolo, ecco, sopra i mille metri ci sono distese di tarassaco in fiore, abbiamo visto i maggio ciondoli salendo, bellissimo. Eccola la nostra meta, prima vetta dopo la quarantena, Castel Gaibana. Dai che ci siamo quasi, guardate che panorama però. Eccoci qua, questo è l'osservatorio militare di Castel Gaibana, costruito durante la Grande Guerra, teneva d'occhio la Val dei Ronchi e di Carega, era un ottimo punto di osservazione come potete vedere, facili da raggiungere perché insomma, la Lessinia è qua sotto e qui siamo proprio sul bordo della Lessinia, confine col Trantino. Il salto qui della Val dei Ronchi è veramente impressionante. Adesso possiamo tornare a casa felici, abbiamo respirato un po' d'aria di montagna e mi raccomando comunque prudenza sempre, sia per quanto riguarda i classici aspetti della montagna ma anche precauzione, portatevi la mascherina, se incrociate qualcuno indossatene, insomma anche oggi abbiamo visto qualcuno senza e non ci fa piacere, ecco perché nelle domeniche affollate questo problema sicuramente ci sarà. Ciao a tutti e alla prossima!